Maschere! Qui ci sarà il supporto dell'artiglieria! Qui addosso! Ora! Muoversi! Artiglieria in arrivo! Preparatevi ragazzi! Sospendenti ragazzi! Fuori da questo settore! Sospendenti ragazzi! Sospendenti ragazzi! Sospendenti ragazzi! Sospendenti ragazzi! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 No Chiodatevi su quello che vi arrivo in arrivo! Preparatevi, ragazzi! L'artiglieria sta sparando su queste coordinate! Bomba lanciata! Aereo in arrivo! Stiamo perdendo questa battaglia! Sì, ci serve il supporto di martiglieria! Stiamo perdendo questa battaglia! 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 Perciò aban l'allon! Freve con! Scusiamoli duro ragazzi! Scusiamoli! Dovete comportare quella posizione! Grazie a tutti!